L'epidemia di Covid-19 ha fatto riunire le forze di Sinovac e DuPont. Gli indumenti protettivi DuPont-Tyvec si sono rivelati insostituibili nella produzione di vaccini. La produzione dei vaccini richiede la massima sicurezza e deve essere svolta in una camera bianca, con livello di biosicurezza elevato, indossando indumenti protettivi sterili resistenti all'acqua e agli strappi. Formano una barriera protettiva affidabile tra il personale di produzione e l'ambiente di lavoro, sopportando la nostra produzione di vaccini. La produzione del vaccino Covid-19 è una nuova applicazione per gli indumenti protettivi DuPont-Tyvec. In coerenza con la nostra missione di proteggere le vite, non abbiamo risparmiato alcuno sforzo per esaminare i requisiti della produzione di vaccini Covid-19. DuPont ha istituito un gruppo di esperti tecnici per identificare i prodotti di protezione più idonei a proteggere dai rischi potenziali del processo di produzione. In qualità di leader nei DPI, DuPont è impegnata a fornire indumenti protettivi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in prima linea, in tutti i segmenti di mercato. La nostra collaborazione con Sinovac è stata fondamentale per promuovere l'uso dei nostri capi nella produzione di vaccini Covid-19 in tutto il mondo. La nostra collaborazione con Sinovac è stata fondamentale per ammai. Grazie a tutti.